Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Calenzano e BV1 variante in direzione di Bologna. Segneremo inoltre la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci ancora una volta in direzione nord. Infipili i rallentamenti all'altezza di Firenze Scandicci in direzione ingresso città. Troviamo inoltre personale su strada per lavori tra Pisa Nord-Est e Cascina in direzione SGC Firenze-Rivorno. Uno sguardo alle statali sull'Aurelia e rallentamenti per lavori tra Carrara e Querceta nei due sensi di marcia. Ci spostiamo sulla SRT 429 fino a fine mese. Sono in corso lavori di fresatura e riasfaltatura nell'Empolese, in particolare tra Fontanella e Sant'Andrea. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!